Questo è ciò che resta dello stabilimento Piaggio, che ha cessato la propria attività dopo oltre un secolo di vita nell'agosto 2014. Proveremo ad analizzare dal punto di vista sociologico il contesto in cui è nato lo stabilimento Piaggio a Finale Ligure, come l'azienda in questo secolo di attività abbia influito sullo sviluppo della società finalese e il motivo per cui si è arrivati alla sua destrutturazione. Grazie a tutti.